Alle Informatica, al Forum dell'Innovazione Nord-Ovest. Sì, allora Alle Informatica è leader nella pubblica amministrazione, nel software, per lo sviluppo del software della pubblica amministrazione da oltre 30 anni. Siamo presenti in tutta Italia con almeno una filiale diretta e presenti in oltre 3.500 comuni. Uno dei vantaggi del scegliere i prodotti di Alle Informatica è quello di avere naturalmente un prodotto tecnologicamente avanzato e sicuramente un'assistenza molto capillare. Infatti il nostro team di consulenti garantisce la soluzione di qualsiasi problema entro al massimo mezz'ora dalla chiamata. Per cui Alle Informatica ha organizzato questo tipo di assistenza proprio per essere vicina a tutti i comuni e in particolar modo ai comuni medio-piccoli che sappiamo hanno risorse limitate e cerca Alle Informatica assolutamente di venire incontro alle problematiche di questi enti. Alle Informatica ha sviluppato, come dicevo, software per la pubblica amministrazione, software che comprende tutte le suite necessarie all'informatizzazione di un ente, per cui partendo dalla contabilità finanziaria, per passare al demografico, personale, area segreteria, eccetera. In modo particolare in questo ultimo periodo importante è l'albo pretorio online perché dal primo gennaio del prossimo anno i comuni avranno necessità di pubblicare online l'albo pretorio, per cui anche su questo Alle Informatica ha investito e garantisce ai propri clienti la possibilità di pubblicare in tempo reale, assolutamente in tempo reale, tutti gli atti che devono essere comunque pubblicati nell'albo pretorio.